È stato veramente un onore per me essere invitata e poter partecipare ad un incontro con gli studenti della scuola Renzo Inveni, innanzitutto perché avendo conosciuto Renzo il suo impegno per l'Europa e per un certo tipo di Europa è anche un momento per fermarsi e ricordare il suo insegnamento, la sua azione e ispirare la nostra alla sua, ma anche perché parlare con i ragazzi dell'Europa che loro vedono e dell'Europa che vorrebbero è il modo migliore per avere un'azione europea nelle istituzioni che possa rispondere veramente ai cittadini. Quindi è stato per me un investimento tanto nel ricordo di Renzo e tanto nella prospettiva dell'Europa che vogliamo. L'Europa oggi ha mille difficoltà, ha mille sfide, ma ha anche una grandissima forza. Quella forza sono quei ragazzi che vedono nell'Europa la risposta ai problemi che abbiamo intorno a noi e credo che parlare con loro sia il miglior modo, la migliore risposta, la migliore soluzione per fare davvero l'Europa di cui abbiamo bisogno.